Arte, cultura, spettacolo. Questo è quello che propone la lunga notte di illuminarti nel cuore del centro storico della città di Piedimonte Matese in programma il prossimo 3 giugno. Un appuntamento di grande espessore culturale che quest'anno ha come tema la meraviglia. Un evento atteso non solo nell'alto casertano ma nell'intera regione che farà risplendere i vicoli e gli anfratti più nascosti di questa magica cittadina con uno spettacolo unico di luci e musica da non perdere così come ci racconta in questa intervista Gianfrancesco D'Andrea. Allora il prossimo 3 giugno una nuova edizione di illuminarti. Quali sono le novità? Allora intanto la novità è che siamo arrivati alla sesta edizione non è poco perché grazie alla sinergia che si è creata tra l'associazione Biblos e il comitato festeggiamenti San Marcellino ormai abbiamo questa alleanza collaudata ma arrivare alla sesta edizione di un evento che comunque conta in media 5.000-6.000 presenze per ogni edizione è già un traguardo e credo sia una notizia importante per la città di Piedimonte Matese. Novità? Al solito abbiamo 40 eventi, ben 40 eventi in una notte che andranno in sincrono su tutto il perimetro del centro storico. La vera grande curiosità di questa sesta edizione è che illuminarti si arricchisce di un segmento in più cioè l'itinerario sarà anche da largo sorgente a largo San Sebastiano e poi ovviamente avrà il percorso tradizionale ovvero il segmento per dir così storico cioè da via Ercole D'Agnese alla Basilica di Santa Maria Maggiore Palazzo Ducale Largo Santa Maria Vecchia. Ecco ci sta qualcosa, qualche particolare in più che ci può dire? L'edizione di quest'anno è dedicata alla meraviglia. Noi alterniamo la scelta di dedicare l'edizione di un determinato anno ad un personaggio oppure ad un tema. abbiamo dedicato gli anni scorsi alcune edizioni ad Aurora Sanseverino, a Enrico Caruso, a Gian Giacomo Egg. Quest'anno ci siamo dati un tema, quello della meraviglia. Diciamo in questo tema che è molto ampio da sviluppare, da affrontare, c'è qualche particolare che ci può anticipare o no? Allora intanto faremo delle coreografie straordinarie che sono state realizzate dalla direzione artistica appunto che è curata dall'associazione Biblos. Abbiamo delle coreografie lungo il percorso, ovviamente non rivelo granché ma sicuramente sapranno suscitare la meraviglia di tutti quanti i visitatori. Abbiamo tra gli eventi, spaziamo dalla musica popolare alla danza del ventre, a mostre fotografiche di pittura particolarmente interessanti, ci saranno cori gospel, ci sarà musica blues, insomma veramente per tutti i gusti e per tutte quante le esigenze, le preferenze musicali o artistiche. Allora chiudiamo ricordando giorno e orario. Illuminarti ci sarà al solito per una notte con 40 venti in sincronia il 3 giugno 2017 all'interno del centro storico di Piedimonte e Matese dalle 19 alle 24, solito format. Da Piedimonte e Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it